I polizzotti della squadra mobile di Crotone insieme ai colleghi di Mantova e con il supporto del reparto prevenzione crimine di Cosenza, Siderno e Vibo Valenza e delle squadre cineofine delle questure di Vibo Valenza e Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone indagate per detenzione e spaccio di stupefacente del tipo cocaina, eroina, ashes e marijuana. Cinque persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari, quattro hanno avuto il divieto di dimora in Calabria e due invece l'obbligo di firma. L'indagine nasce da un procedimento per lesioni personale che ha consentito di documentare attraverso anche riscontri di videosorveglianza e intercettazioni telefoniche l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio operante nel quartiere Acquabona nella periferia di Crotone. Il sistema era ben organizzato e coinvolgeva persone sia residenti nel quartiere che in altre zone della città. La droga di vario tipo veniva ceduta in qualsiasi momento della giornata, anche a pochi metri da tre istituti scolastici della zona. A due degli indagati è stato contestato anche il reato di detenzione e porto di arma clandestina, occultata in un cassonetto dell'immondizia dove era stata trovata e sequestrata dagli agenti nel corso di un servizio di controllo del territorio. Stesso metodo anche per la droga, anch'essa occultata nei bidoni della spazzatura, oppure nei sottotetti dell'abitazione e in un accumulo di materiali posizionati tra le abitazioni degli indagati. Stesso metodo anche per la droga, anch'essa l'abbia di corso di un servizio di nonna.